Eccoci qua col bomber di giornata Mereta, protagonista della bella vittoria odierna della Casellese. Un parere sulla prestazione dei ragazzi? Allora abbiamo giocato un'ottima partita, il primo tempo ce la siamo giocata la pari, il secondo tempo siamo entrati con la grinta giusta, abbiamo vinto meritatamente questa partita. Se continuiamo così riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni e abbiamo vinto grazie a un gol mio e un gol del capitano Giorgio Marradi su rigore. Dedico questo gol a mio papà che purtroppo non c'è più e andiamo avanti così.